Ciao a tutti, vi aspettiamo il 30 aprile alle 20.45 su... 21.30. Ditemelo però. Gianni. Ciao. Ciao a tutti, vi aspettiamo il... 30 aprile alle 21.30 su Telespazio 1 e sui social di Sposi in Campania. Sposi in Campania. Diggielo anche tu, che loro ti fanno sempre improvvisare. Beh, infatti è carinissimo, dai. Però ci vuole... Vedi che è bello lo spot con tutti gli errori, dai. Ciao a tutti, vi aspettiamo il... Il 30 aprile. Per che cosa? Per che cosa? Per il premio... The Best Sposi in Campania. Grazie. È andata.